Questo è il signore di cui voglio aiutare gli ruoli indispensabili per creare il Paese, il senso di un Paese, attraverso un sistema di istituzione che offre le stesse possibilità ai bambini di Trento come di Palermo e non si dimentichi che i tanti bambini che arrivano dall'altra parte e sono tutti i nostri figli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.